Benvenuti, benvenuti alla sessione annuale degli armamenti della Corea del Nord. Ora possiamo ammirare il nostro grande libro mentre si informa sulla potenza delle armi straniere. Noi della gloriosa Germania abbiamo modo di testare il nuovo prototipo di jet, ma vedremo cui il nostro ha inviato dentro. Entra Steiner! Come potete vedere il nostro hallo funziona in perfettura! Oh si 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 sude! Questo grande grande comandante che fa' questo hallo qui! Primo comandante! Dove sei? Mi sei alchio di questa hallo! A ver, vediamo primo comandante! Chi ha ucciso il primo comandante? Tanto schiavoso! Non lo hai detto schiavo! Faccio vedere io! Lo ha detto le capitalista! Grande leader! Forza del grande libro! 5! La fiamma della giustizia! Così impari il sporco! Capitalista! Maiale capitalista! È un'erciente attraverso! Tro ... Cosa è una piccola! io non lo cannota nos la cura mi, la cura mia aerea oh non c'è si come on radio suonito, lì, lì, lì la spuntano e picchia no, dò si calito fa là oh so la spaccato, le volevo le carica no, no come on radio ora, sotto la base di un inventiva telescaneo, 1940 anche il suecito nord coreano si è dotato di un avanzatissimo sistema di caccia e una base di produzione lo vediamo qui alle nostre spalle vai pilota mostraci come funziona questo questo, questa attrezzativa perfetto più o meno con questo il capitalistico con questo con questo il capitalistico Sir! c'è qualcosa che non fa nell'aereo è tutto a posto è tutto a posto siamo in un documentario va tutto bene? va tutto bene è tutto a posto è tutto a posto è tutto a posto e ora faremo un piccolo esperimento abbiamo riprodotto un oggetto che i giapponesi conoscono molto bene ora lo accendiamo e lo proviamo dove sei? Tieni Clank ecco come si presenta la Pyongyang e ora possiamo intervistare il nostro grande leader che cosa ha da dirci lei? questo è il futuro per tutta la terra non possibuta da Nord Corea perfetto conquisteremo tutto perfetto sono stato un Giannavista fedele un Salone randelli l'arrivo più 1 Pesana 6 9